Questa volta è tutto vero. Dal primo giugno entreranno in funzione i due nuovi autovelox posizionati a Cucurano e Metauriglia di Fano. Ad annunciarlo l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini e la comandante a Narita Montagna. Dopo l'ok avuto dalla giunta nella giornata di ieri, dal prossimo mese gli automobilisti potranno percorrere questi due tratti stradali alla velocità di 50 km orari con una tolleranza di 5, quindi non più di 55 km. Comandante spieghiamo come funzionano questi due nuovi apparecchi. Tecnicamente si tratta di due autovelox che rilevano le velocità in ambedue i sensi di marcia, per cui pur essendo posizionati in un unico palo da un unico lato della strada, la velocità che viene rilevata è in ambedue le direzioni, per cui Metauriglia è rilevata sia in direzione nord che sud, Cucurano sia in direzione mare che in direzione monte. Abbiamo tardato l'attivazione di questi autovelox anche perché è stato chiesto un'implementazione della segnaletica di preavviso, ma è stato preteso di installare un secondo segnale per ogni direzione di marcia proprio perché l'obiettivo è quello di renderlo visibile, in modo che la cittadinanza sappia che in quelle posizioni, in quelle postazioni c'è il rilevamento della velocità e questa venga ridotta. Diverse le sanzioni se non si rispetta il limite consentito. Le multe partiranno da 42 euro per chi sfora non oltre i 10 km orari durante le ore di urne, 29,40 euro se pagata entro i 5 giorni, contro i 56 euro in quelle notturne, 39,20 euro prima dei 5 giorni. Dai 10 ai 40 km la sanzione di 173 euro, 121 se pagata prima dei 5 giorni, contro i 230,67 durante le ore notturne, 161,47 se pagata prima. A questi si aggiunge anche la decurtazione di tre punti dalla patente. Tra i 40 e i 60 km invece la multa si eleva di 543 euro di giorno e 724 di notte. In questo caso decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente. Infine, oltre i 60 km orari, la sanzione di 845 euro di giorno è ben 1.126,67 nelle ore notturne. Qui i punti decurtati sono 10 e addio alla patente. Ribadendo anche i principi fondamentali che sono riduzione del 30% dell'importo qualora si paghi la sanzione entro i primi 5 giorni, ma attenzione agli orari notturni dove tra l'altro abbiamo rilevato esserci una velocità più elevata, perché dopo le ore 22 in cui inizia la fascia notturna c'è un incremento della sanzione di un terzo. Il nostro obiettivo, ha detto l'assessore Cucchiarini, non è fare multe ma ridurre la velocità nei punti più critici della città, teatri di incidenti anche mortali. Installati grazie al confronto e alle segnalazioni dei residenti, ha poi proseguito, i dispositivi sono stati acquistati dal comune e verranno gestiti dal comando di polizia locale. Con le autorità provinciali competenti stiamo intrattenendo un ragionamento per nel prossimo futuro pensare di andare a trasformare quello che è un velox bidirezionale con un velox con il sistema tutor, apponendo un altro autovelox più avanti tra Ponte Sasso e Torrette, cercando comunque di andare a individuare una velocità media alzando anche la velocità dai 50 ai 70 a metà auriglia. Questo è un percorso verso il quale l'amministrazione comunale intende vertire, chiaramente non dipende solo da noi, cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per andare a mettere in piedi questa che è un'opzione che potrebbe essere un'opzione per governare meglio e in modo anche più tollerante quello che comunque è comunque un tratto molto pericoloso. Quindi per chi percorrerà dal primo di giugno questi due tratti, occhi puntati sul cruscotto della propria macchina sia di giorno che di notte. Automobilista avvisato, mezzo salvato.